SCP-025 deve essere aperto solo durante i test, così come la stanza nella quale è conservato. I codici d'ingresso sono stati dati solo al personale autorizzato di ricerca e di sicurezza. Non sono richiesti ulteriori protocolli di contenimento. SCP-025 è un armadio in legno che misura 0,97 metri per 0,62x1,95 metri, pieno di vestiti risalenti ad un certo numero di epoche. Gli indumenti contenuti all'interno dell'armadio, chiamati collettivamente SCP-025-1, coincidono con gli stili dei decenni che vanno dal 1920 ad oggi. L'abbigliamento di ogni epoca varia per quanto riguarda lo stile. Ad esempio, una camicia di poliestere a righe ed un paio di pantaloni di tuta a carbone corrispondono alla moda del 1970. L'unico aspetto in comune di ogni articolo contenuto in SCP-025 è che ognuno è in cattive condizioni. Le tarme hanno mangiato gran parte della collezione e quindi strappi e sfilature non sono rare. Quanto viene indossato un elemento da SCP-025, chi lo indossa viene osservato morire o subisce un infortunio entro 24 ore. La causa della morte in questi casi è sempre legata ai difetti submenzionati nell'abbigliamento, anche se appare come un incidente non collegato. Indossare un guanto con un dito tagliato può portare alla perdita del polpastrello tramite un semplice incidente di cucina, ad esempio mentre si tagliano le cipolle. Analogamente, un soggetto che indossa un poncio con una manica mancante in qualche modo perderà il braccio scoperto, che sia attaccato da un animale selvatico o che lo perde in una putazione dovuta ad un incidente automobilistico. Se un indossatore che veste uno degli indumenti dell'armadio viene posizionato in un contenitore scillato e privo di mobilio, comincerà a contrarre una malattia carnivora che inizia nelle zone non coperte degli abiti o soffrirà di necrosi nell'organo situato sotto un'imperfezione del capo dell'abbigliamento. Le malattie derivanti da tali incidenti possono essere contagiose o meno, non è stato intrapreso alcuno studio a causa della velocità con cui i ceppi osservati fanno il loro corso. Si consiglia, se possibile, di portare i campioni prelevati della malattia al laboratorio per una possibile militarizzazione. Di seguito è riportato in breve un registro dei test effettuati su SCP-025. Test approfonditi porteranno alla declassificazione del documento nella sua interezza. Il soggetto è stata permessa l'esplorazione libera delle sale sotto la supervisione dell'agente C. Per circa 45 minuti non si è verificato nessun evento significativo, tuttavia alle le registrazioni di sicurezza e dei testimoni oculari hanno affermato che il D-778 sembrava voler attaccare l'agente Egli stesso ha sconfitto il soggetto con un coltello, causando uno squarcio profondo un pollice nella spalla sinistra del soggetto D-778, precisamente nel punto in cui era stata strappata la cucitura dello smoking. Il test è stato interrotto, il soggetto è stato successivamente eliminato. Nella stanza sigillata con il soggetto vi era anche una tavola, sulla quale erano poste una pistola di circa 9 mm Gerico Baby Eagle, un accendigas e un accetta. T690 ha scelto di indossare il cappello al contrario per i test, i potenziali effetti di questa decisione sui risultati sono ignoti. Il soggetto ha espresso riluttanza nel toccare un degli oggetti per diverse ore, sono stati somministrati cibo ed acqua. Dopo 4 ore di inattività generale, il soggetto ha preso la pistola e l'ha esaminata, mentre la teneva bruscamente ad altezza degli occhi, l'arma ha sparato in fronte al soggetto D-690 nel punto in cui sarebbe dovuto esserci il regolatore di dimensione. La pallottola è uscita dal soggetto vicino alla parte del cappello in cui manca il logo. Al soggetto D-736 è stato chiesto da parte dello staff di ricerca di indossare il maglione, cosa che egli ha fatto sotto costrizione. Al soggetto D-771 è stata data una pistola carica senza che l'altro partecipante vedesse e gli è stato detto di sparare 6 colpi in direzione di D-736 ad un determinato segnale. Dopo di ciò è stato notato che ogni colpo sparato è passato attraverso uno dei pori della maglia, lasciando intatto l'abbigliamento ed uccidendo D-736. L'arma da fuoco è stata recuperata e il soggetto sopravvissuto è stato riportato agli alloggi. D-771 è stato posizionato questa volta in una stanza vuota misurante 15 metri per 15 metri per 15 metri. I soli oggetti nella camera erano luci da soffitto. Il soggetto inizialmente si è lamentato per la noia, dopo di chi è si è steso e si è addormentato. Dopo 2 ore e 14 minuti, due delle luci tubolari si sono staccate e sono cadute. Entrambe sono casualmente cadute esattamente sui fori del maglione, andando in frattumi per l'impatto. Una delle luci tubolari si è rotta in pezzi frastagliati che hanno traffitto D-771 in diverse aree, ma ancora una volta solo attraverso i buchi presenti sul maglione. Gli organi vitali del soggetto si sono protratti per altri 6 minuti, dopo di che hanno ceduto. Saranno selezionati ulteriori luoghi per i test per ridurre al minimo possibile i danni all'area circostante. Stando ai suoi movimenti, in data, il dottor che indossava l'indumento di SCP-025 si è incamminato verso la stanza di SCP-025 per un test di routine. Tuttavia, egli si è discostato dal percorso previsto e si è incamminato verso un'ala completamente separata dalla struttura. Il soggetto è poi entrato nella camera di SCP-173 senza l'accompagnamento adeguato e senza attuare la procedura di sicurezza e, dopo aver sentito la porta chiudersi, ha sbattuto le palpebre. La causa della morte è stata registrata come strangolamento da tracchia schiacciata. Tutti i presenti sono stati considerati infetti, quindi messi in quarantena e... Tutte le ulteriori prove che coinvolgono gli stili del 1980 sono state rinviate a tempo indeterminato, a causa dei consumi e i rischi presentati all'esperimento in cui sopra. La pulizia completa conta di impiegare altre... settimane. Test aggiuntivi autorizzati in attesa di classificazione.